Direi che bisogna respingere la cornice narrativa che ci viene presentata quotidianamente come perimetro indiscutibile nel quale vengono inseriti gli eventi secondo un ordine del discorso che tutto è forché neutrale. Intendiamoci, non esiste mai un ordine del discorso neutrale ed è anzi parte dell'ideologia il presentare un discorso come se fosse neutrale rispetto agli altri. E tuttavia è curioso il fatto che per un verso l'ordine del discorso dominante si pretenda neutrale e chiami propaganda o fake news l'altro ordine del discorso, quello che propone un'altra interpretazione dei fatti. È chiaro che è propagandistico tanto l'uno quanto l'altro, non fosse altro che per il fatto che in una guerra ciascuno ha la propria visione e tende dunque a presentare l'altra come se fosse pura propaganda. Io dico subito quale ritengo essere la prospettiva a mio giudizio degna di essere seguita in questo contesto da un punto di vista che non è quello ucraino, non è quello russo e non è quello americano, ma è quello italiano, essendo noi abitatori per fortuna o per sfortuna di questo paese. E quindi dico che l'Italia avrebbe dovuto a mio giudizio da subito mantenere una posizione di ferma neutralità, per più ordini di motivi, anzitutto possiamo dire per motivi di ordine costituzionale, per motivi di ordine filosofico-culturale, per motivi di ordine economico-materiale. Parto da quelli costituzionali che sono anche più facilmente chiaribili in fondo. L'articolo 11 della nostra carta costituzionale sotto questo riguardo è di adamantina chiarezza. L'Italia respinge la guerra come strumento di offesa e anche come mezzo per dirimere le controversie internazionali. Sicché questa precisazione già vale a screditare la possibilità stessa di un invio delle armi all'Ucraina, delle sanzioni contro la Russia e di tutto ciò che di fatto ci ha portati alla situazione in cui ci troviamo, quella per cui siamo già all'interno di una guerra. Si badi anche l'argomento che viene talvolta utilizzato a sproposito, secondo cui si dice vero che l'Italia respinge la guerra e tuttavia la ammette come strumento di difesa e quindi se c'è un'aggressione bisogna difendersi. Certamente che è così, ma appunto l'Italia non è stata, grazie al cielo, aggredita da nessuno allo stato dell'arte e quindi l'argomento è specioso perché se l'Italia dovesse, e la Costituzione in vero non lo prevede, mandare le armi ogni qualvolta ci sono delle aggressioni di paesi altri, allora non si spiega perché le mandi in Ucraina e non nelle altre circa 50 guerre che sono attualmente in corso nel mondo. Ma poi in realtà mandare le armi in Ucraina significa ricadere nella fattispecie di cui già abbiamo detto, cioè il dirimere le controversie con la guerra, ciò che la nostra Costituzione non prevede. Quindi, primo punto, la nostra Costituzione che, che se ne dica, non prevede la possibilità della guerra in questi termini. Peraltro in questo caso bisogna anche essere chiari, l'Ucraina per ora almeno non fa parte né della Nato né dell'Unione Europea, quindi a maggior ragione diventa difficile sostenere la posizione di chi propugna la guerra a sostegno dell'Ucraina da parte dell'Italia. Vi è poi la motivazione di tipo filosofico-culturale, quella secondo cui l'idea di Europa, come con una nobile altisonante espressione, la chiamava Edmund Husserr, l'idea di Europa dovrebbe essere quella di un'Europa della ragione, del concetto, del dialogo, ciò che poi si traduce in termini politici nella forma della diplomazia e del negoziato. Del resto anche gli aedi di questa Unione Europea ci avevano detto a più riprese che l'Unione Europea ci avrebbe protetti dalle guerre. Purtroppo abbiamo scoperto non essere così, ce ne accorgemmo in vero già nel 99 con la guerra di Serbia e tuttavia ne abbiamo ora un'ulteriore conferma. L'Unione Europea non ci protegge delle guerre e anzi sta occasionando una guerra per la quale anche la ragione filosofica avrebbe da obiettare sulla base di quanto dicevo. Dal punto di vista filosofico possiamo dire, credo in maniera pacata e difficilmente controvertibile, che la guerra è sempre il fallimento della filosofia, è il fallimento delle ragioni del dialogo. Quando sulla forza della ragione prevale la ragione della forza ciò accade perché le ragioni del dialogo sono state sconfitte e quindi prevale quel gesto antifilosofico per eccellenza che è la guerra, in cui sulla ragione del dialogo faccio prevalere la forza bruta. E si va di quando Eraclito diceva che il polemos, la guerra è padre di tutte le cose, intendeva in realtà anzitutto la contraddizione, quella contraddizione che però deve essere, diceva Eraclito stesso, katametron, secondo misura, quindi il conflitto dialettico, la contraddizione interna alle cose stesse. La guerra è un conflitto, è un polemos parametron, contro misura, contro l'idea di misura, è un conflitto portato alle sue estreme conseguenze. Quindi anche per questo motivo possiamo dire che la neutralità è da seguire più che mai sotto questo riguardo. Vi è poi il terzo elemento, il terzo argomento, se volete è anche più prosaico da un certo punto di vista, l'Italia oltre a dover ripudiare la guerra perché lo chiede la Costituzione, oltre a dover ripudiare la guerra perché lo richiederebbe il nostro logos europeo, dovrebbe ripudiare la guerra perché non ha alcun interesse materiale a farla. Mi rendo conto un argomento molto prosaico e tuttavia prendiamoli in esame tutti, lasciando questo per ultimo, ma prendiamolo in esame. L'Italia non ha alcun interesse a fare la guerra alla Russia per vari ordini di ragioni, intanto perché l'Italia si trova, come ben sapete, in una situazione di declino in questi ultimi due anni post-pandemici. Si trova in una situazione di difficoltà evidente per via di una gestione dell'emergenza che, giusto o sbagliata, ha prodotto come conseguenza il dissesto del tessuto sociale, economico, produttivo, soprattutto per quel che concerne le classi lavoratrici e i ceti medi, che ancora una volta sono stati quelli martoriati dai processi in corso. E quindi potenziare gli investimenti nella guerra e essenzialmente nell'apparato bellico significa andare contro il proprio interesse nazionale. Oltre a ciò, quindi, elemento dell'invio delle armi in Ucraina, è già risolto anche sotto questo profilo. Cui protest? Perché mai l'Italia dovrebbe nuocere al proprio interesse nazionale anche sul piano economico? L'altra faccia della medaglia è poi quella delle sanzioni alla Russia. Perché mai l'Italia dovrebbe fare delle sanzioni alla Russia? E badate, le armi che sono state inviate dall'Italia all'Ucraina, anche di questo bisogna discutere seriamente, non sono armi difensive. Può sembrare una distinzione oziosa, ma non lo è. Perché un conto è mandare elmetti o scudi, armi difensive. Altro conto è mandare mortai, mitraglie e bombe. Scusate per la banalizzazione, non sono un esperto di armi, però credo che sia abbastanza evidente la distinzione tra queste due tipologie di armi. Le armi offensive sono armi che non servono semplicemente a difendere, ma servono a muovere guerra a propria volta. E quindi significa ancora una volta ricadere in questa logica della guerra. Le sanzioni alla Russia sono, io credo, il primo caso nell'intera storia umana di sanzioni che vanno a documento del sanzionante e non del sanzionato. Di questo bisogna essere consapevoli. Le sanzioni alla Russia, oltre ad avere una dubbia efficacia nel confliggere contro la Russia, hanno invece per converso una certissima efficacia nel colpire e forse affondare in molti casi l'economia nazionale. È incalcolabile il numero di aziende, soprattutto nel nord Italia o nell'area marchigiana legata in maniera robustissima alla Russia, il numero di aziende che si trovano letteralmente in difficoltà e anche per carenza di materie prime si accingono forse a chiudere per sempre. La domanda che dobbiamo porre, allora, stante questa triplice determinazione filosofico-politica, costituzionale, materiale, economica, è cui prodesto? Perché mai l'Italia ha scelto sciaguratamente di entrare in guerra? E lì la risposta è chiara come il sole. È evidentemente una scelta che non è stata presa a Roma, ma è stata presa a Washington. L'Italia paga ancora una volta lo scotto dell'essere una colonia di Washington, di essere né più né meno che una sorta di succursale del nuovo ordine washingtoniano. Quando Washington decide che bisogna bombardare Belgrado, 1999, Roma deve eseguire cadavericamente. Quando Washington decide che bisogna fare le sanzioni alla Russia o mandare le armi all'Ucraina, Roma esegue cadavericamente. E qui si intreccia un tema sul quale varie volte ci siamo anche soffermati nei nostri lavori, ed è quello della sovranità dello Stato nazionale. La sovranità dello Stato nazionale ha tante determinazioni. Possiamo dire che la sovranità va presa tutta intera, non si può fare a spicchi, non può bastare un'unica parte di sovranità per garantire la sovranità dello Stato nazionale. Ed è curioso che alcune forze oggi operanti nel Paese cerchino giustamente la sovranità monetaria, nulla avendo da eccepire rispetto alla mancanza di sovranità militare. Non si può essere sovrani in assenza della sovranità delle proprie milizie. Basterebbe avere chiari concetti espressi da Machiavelli nel Principe e nella prima deca sopra Tito Livio per sapere che la sovranità implica almeno due cose fondamentali, che sono la sovranità della moneta e la sovranità delle milizie. La sovranità delle milizie, che è il tema di cui stiamo qui discutendo, non c'è da che l'Italia è di fatto un Paese a sovranità militare limitata, essendo circa 120 le basi statunitensi militari che occupano il nostro territorio dagli anni 40 essenzialmente ad oggi, essendo l'Italia un Paese interno alla Nato. E anche sulla Nato bisognerebbe aprire una lunga parentesi che non voglio in questa sede affrontare, mi limito a dire che la Nato, che già Pertini, siamo negli anni 40, aveva rettamente individuato come uno strumento di guerra e quindi come qualcosa da cui tenersi ben distanti, la Nato ha svolto e continua a svolgere una duplice funzione. La prima è il braccio armato dell'imperialismo statunitensi, la seconda è la potenza che garantisce che l'Europa tutta sia una colonia di Washington, Italia in primis. Quindi, alla luce di quanto detto, la posizione da rivendicare, a mio giudizio, sarebbe quella di una neutralità e di un'Europa tutta che finalmente svolgesse una parte autonoma, libera dall'imperialismo statunitense, è finalmente in grado di difendere quanto abbiamo detto, nel nostro caso specifico, le ragioni della Costituzione anzitutto, l'idea di un'Europa filosofica basata sul dialogo e sul concetto e poi anche, perché no, il proprio interesse materiale, ciò che la Francia e la Germania sembrano in qualche modo fare meglio rispetto all'Italia che invece sta di fatto producendo una sorta di danno permanente della propria economia. Dicevo, a mio giudizio, occorre tenersi a giusta distanza dalle letture ingenue, fumettistiche e anche un po' infantili della tifoseria calcistica, tifate per la Russia o tifate per l'America. Ecco, il nostro paese probabilmente ha un limite storico particolare, che era quello in cui già viveva Machiavelli e che denunciava Machiavelli, cioè l'Italia è sempre alla merced di altre potenze, non riesce mai a costituirsi come Stato nazionale autonomo e quindi abbiamo sempre il dilemma se stare con l'America o con la Russia storicamente. Manca sempre il terzium datur, perché in realtà c'è questa terza possibilità, che è quella di un'Italia che sia sovrana e che abbia rapporti, perché no, distesi sia con l'America e sia con la Russia senza essere colonia né dell'una né dell'altra. L'idea che, a mio giudizio, deve essere perseguita è quella di un multiverso, cioè di un mondo popolato da stati sovrani nazionali indipendenti che creino una forma di internazionalismo, di stati nazionali che tra loro si consocino, si confederino senza dare luogo a forme di colonialismo contemporaneo. Dicevo, la narrazione dominante è una narrazione che naturalmente può indurre taluni, come spesso accade nel nostro paese, quasi per moto di ingenua infantile opposizione a dire sto con la Russia, raccontate talmente tante menzogne che mi schiero con la Russia e voglio che in qualche misura vinca la Russia e che noi ci poniamo sotto l'ala della Russia. Capisco questa posizione, non la condivido, ritengo invece che si debba mantenere la neutralità, come già dicevo, e difendere le ragioni della pace. Ci ho detto, è chiaro che la narrazione è dominante, fumettistica e caricaturale. Io ho provato a sintetizzarla in una frase di questo tipo, che è quella che in realtà trovate lievemente variata nei principali rotocalchi nazionali, nelle principali trasmissioni nazionali. La narrazione è quella secondo cui c'è un folle con chiari problemi psichici, novello Hitler, che dopo aver letto i testi di Dostoievski è mosso dall'irrefrenabile desiderio di invadere l'Ucraina. Ecco, questa è la narrazione che viene presentata. Ora, io non voglio fare l'apologia della Russia di Putin, io mi occupo di altro nella vita, faccio filosofia, quindi non mi interessa dire chi ha ragione e chi ha torto. Diceva Spinoza, il compito è quello di non ridere, non detestare, non piangere, ma capire. E perdonatemi se respingo al mittente questa narrazione fumettistica e demenziale che offende non soltanto chi la produce, ma anche chi l'accetta, perché questa narrazione non ci aiuta a capire nulla di quello che sta accadendo. Bisogna allora fare un passo oltre e capire che se siamo giunti a questa situazione deprecabile, ciò è l'esito di un lungo percorso storico. Chi oggi si limita, come fanno i principali rotocalchi nazionali ed europei in genere, anche in ciò rivelando la propria subalternità alla posizione della civiltà del dollaro, a dire che essenzialmente tutto dipende dalla volontà di un folle di invadere l'Ucraina, non viene reso un buon servizio all'informazione, al dibattito sotto questo profilo. Io uso sempre un'immagine semplificatoria, ma credo euristicamente feconda. È come se in una rissa si inquadrasse e si desse la colpa solo a chi per ultimo ha tirato il pugno finale. Ora, è chiaro che non possiamo dire che ha fatto bene neanche chi ha tirato il pugno finale, ci mancherebbe, però forse per correttezza bisogna anche individuare chi ha tirato i pugni precedenti e magari chi per primo ha avviato la rissa. Questo non per assolvere qualcuno o per elogiarlo, ma semplicemente per capire come sono andati i fatti. E questa rissa, se vogliamo chiamarla così, inizia essenzialmente già negli anni 90, quando la Nato, ancora una volta, si è espansa sempre di più verso Oriente in quelle aree in cui pure aveva promesso che non si sarebbe espansa. Perché è lì che origina il problema. L'espansione della Nato, io ho teorizzato con le grammatiche del mio maestro Costanzo Preve, che ci troviamo già da tempo nella Quarta Guerra Mondiale. Chi parla di Terza Guerra Mondiale possibile è nel falso, perché la Terza Guerra Mondiale c'è già stata. È stata la guerra tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, tra il blocco orientale e quello occidentale. Una guerra fredda, come era detta, ma che aveva pure i suoi punti caldi, come la Corea e il Vietnam. Nel 1989 l'Unione Sovietica perde la Terza Guerra Mondiale, per ragioni che non stiamo qui a esaminare. Gli Stati Uniti d'America, vincitori della Terza Guerra Mondiale, avviano contestualmente la Quarta, che è la guerra con cui gli Stati Uniti d'America dichiarano guerra a chiunque non si sottometta al loro dominio. Tutte le guerre dall'89 ad oggi, che sia la guerra dell'Iraq, che sia la guerra della Libia, dell'Afghanistan o di nuovo dell'Iraq, si lasciano inquadrare secondo questa cornice ermeneutica. Stati resistenti che non vogliono genuflettersi a Washington e che di conseguenza, in quanto Stati Canaglia, vengono aggrediti e portati alla libertà il nome Washingtoniano per la sottomissione all'imperialismo statunitense. Cosa succede? Che gli spazi di quella che era l'Unione Sovietica un tempo, ma poi anche di quello che era il Patto di Varsavia, vengono un poco alla volta occupati dagli Stati Uniti, o meglio dalla Nato. Basti citare un fatto. In Romania ci sono le basi statunitensi, le basi Nato. Ma è un'esperienza che può fare anche un bambino della scuola elementare. Guardare la cartina del mondo prima dell'89 e dopo l'89. Si accorgerà che non è stata la Russia espandersi verso Occidente, è stato l'Occidente espandersi verso Oriente. Le basi militari della Nato hanno di fatto un poco alla volta sempre più occupato gli spazi che erano di pertinenza sovietica direttamente o comunque nel Patto di Varsavia. Questo ci ha portato a una situazione che dal punto di vista della Russia era di comprensibile preoccupazione. Era di comprensibile preoccupazione perché, stante il fatto che vi è stata questa avanzata, è evidente che il passo ulteriore, che era già nell'aria, sarebbe stato quello delle basi Nato in Ucraina, cioè al confine con la Russia. Ed è a questo che si stava arrivando. Già dal 2014, quando ci fu, sempre a proposito della rissa che stiamo descrivendo, un ulteriore cazzotto assestato e di cui poco si parla, tuttavia, che fu un colpo di Stato in Ucraina, noto come Euromaidan, la piazza Europa, gestito in piena regola di forze, da forze dichiaratamente neonaziste come Pravi Saktor, Svoboda e il famigerato battaglione Azov, che adesso abbiamo riscoperto essere composto da pi lettori di Kant, secondo la narrazione occidentale. E quindi già nel 2014 inizia questa situazione, con un colpo di Stato che ha posizionato un governo fantoccio di Washington, di fatto, in Ucraina, che aveva messo fuori legge i partiti comunisti troppo russofili e aveva già portato in Costituzione la possibilità dell'ingresso nella Nato. Notizie di cui si è detto poco nella nostra narrazione mainstream. Come del resto non si è detto che già nel 2008, nel congresso di Bucharest, la Nato aveva già detto, placidamente, che l'Ucraina e la Georgia sarebbero entrate nella Nato, presto o tardi. Quindi capite che sotto questo riguardo la rissa era avviata già da tempo. Noi stiamo assistendo solo all'atto finale di questa rissa. Uno può certamente dire che ha sbagliato Putin a invadere l'Ucraina, ma sarebbe come chi dicesse che ha sbagliato quello che dopo aver preso 20 cazzotti anche lui ne tira uno. E certo che ha sbagliato, si poteva risolvere meglio la situazione cercando la via della diplomazia, appellandosi a parti terze che facessero da mediatrici, tutto quello che volete, ma sicuramente attribuire soltanto a lui la colpa di ciò che è accaduto, è ingenuo nella migliore delle ipotesi, in cattiva fede nella peggiore. Ecco in breve sintesi quello che è accaduto in questi, vorrei dire in questi anni, dall'89 ad oggi. Per questo io dicevo sempre già anni fa che il peggio del muro, del mondo diviso dal muro di Berlino, poteva esserci solo ciò che è venuto dopo. Il mondo dell'imperialismo statunitense dilagante, il mondo che ci ha portato a questa recrudescenza dei conflitti. Questa è la situazione in cui ci stiamo trovando oggi. Per questo io ritengo che l'Italia dovrebbe, e l'Europa tutta, dovrebbero difendere le ragioni della pace e svolgere il ruolo, ove possibile, di paceri, anziché insistere dalla parte degli Stati Uniti. Mi rendo conto che è difficile non farlo, essendo l'Italia costellata da basi statunitensi, però credo che dobbiamo essere consapevoli di tutto questo, perché altrimenti continuiamo a credere a una narrazione francamente surreale, che è quella che viene proposta dai nostri giornali aziendali e che pur tuttavia sembra essere una narrazione graniticamente riprodotta su tutte le reti. Anche se è una narrazione che in realtà non so quanto faccia presa realmente sulla popolazione. Sappiamo però per certo che, secondo i dati sondaggistici, il popolo italiano non è favorevole a questa guerra. Il popolo italiano non è favorevole a questa guerra e quindi ci troviamo in una posizione in cui gli italiani, per ragioni che non conosciamo, non sappiamo se per ragioni del terzo tipo, materiali economiche, del secondo tipo, filosofico-politiche, del primo tipo, costituzionali o secondo combinazioni a geometrie variabili tra le tre, non sono favorevoli a questa guerra. E cosa capita quando la popolazione è contraria a una guerra e le forze politiche in Parlamento sono tutte, compreso l'unico sedicente partito di opposizione, favorevoli invece alla guerra? Cosa si è prodotto nel Paese? Che situazione inedita si è generato? Uno scollamento completo tra la volontà nazionale popolare e la volontà dei rappresentanti di chi a questo punto e di cosa? Viene spontaneo. I rappresentanti di se stessi è stato detto? Beh, sarebbe più comprensibile e giustificabile. Io ho il sospetto che non siano rappresentanti di se stessi, ma che siano in qualche modo i passacarte della volontà ora di Washington, ora di Bruxelles. Ma in realtà la cinghia di trasmissione tra Washington e Bruxelles è abbastanza evidente. Washington e Bruxelles non sono paritetiche. Washington è come una matriosca, cioè Washington, poi Bruxelles e poi le varie realtà nazionali. Anzi, dirò di più, Bruxelles, lo uso come sineddo che per dire l'Unione Europea, l'Unione Europea nasce essenzialmente come momento di assestamento di una riorganizzazione autoritaria del capitalismo post-1989, che fornisce tutta una serie di elementi, voglio enuclearne tre soltanto. L'Unione Europea è la riorganizzazione padronale dell'Europa dopo l'89 con riorganizzazione verticistica a documento dei ceti medi e delle classi lavoratrici, quindi nuova figura del conflitto di classe, plutocrazia neoliberale in alto e ceti medi e classi lavoratrici in basso. Lo diciamo anche a beneficio del fatto che domani è il primo maggio e mai, come oggi ha scritto Axel Onnet, il lavoro crea sofferenza sia in coloro che non ne hanno uno, sia in coloro che ne hanno uno. Questa è una novità storica interessante. Mai il lavoro ha cagionato tanta sofferenza sia in chi ne ha uno, sia in chi non ne ha uno. Ecco, e poi sul piano dell'identità, l'Unione Europea rappresenta il momento culminante di quella che oggi viene detta la cultura della cancellazione, cancel culture, ma quello è solo il momento epifenomenico di qualcosa di ben più profondo che vediamo già in atto da anni. Basta che voi prendiate una banconota detta euro e troverete già lì operante la cultura della cancellazione, perché non troverete il Colosseo, non troverete gli Champs-Élysées, non troverete l'Escoriale, ma troverete monumenti astratti, puramente inesistenti nella realtà. E quindi una distruzione organizzata delle nostre identità europee, con un sofisma tra l'altro. L'Unione Europea ci chiede ogni volta di essere europei rinunciando al nostro essere italiani, francesi e tedeschi. E qui è un sofisma, è un non sequitur, perché essere europei, che altro significa se non essere italiani, francesi e tedeschi? Come posso essere europeo rinunciando a essere italiano e aderendo all'idea più grande di Europa? L'idea più grande di Europa non esiste, perché l'Europa esiste come universale concreto, direbbe Hegel, cioè come determinazione concreta delle sue particolarità. E quindi si è europei nella misura in cui noi siamo italiani, i tedeschi sono tedeschi e i francesi sono i francesi, e non rinunciando alla nostra particolarità. È lo stesso teorema che ritorna all'infinito nel discorso del capitalista oggi, che ci chiede di amare l'umanità per disinteressarci in concreto di chi ci sta accanto, che ci chiede di amare l'universale per rinunciare al particolare. Sempre questo il modello. Terzo fondamento dell'Unione Europea è essenzialmente la garanzia o il rafforzamento, se preferite, della posizione atlantista del continente europeo. L'Unione Europea ha garantito quella subalternità dell'Europa tutta rispetto a Washington, che oggi stiamo comprendendo nella sua forma più chiara. Tutto questo trova un momento dirimente nel 92 con Maastricht. Il 92 è un anno decisivo anche per la storia del nostro paese, oltretutto oggi è il 30 aprile, abbiamo rievocato il primo maggio che sarà domani per la festa del lavoro, o il lutto del lavoro a seconda dei punti di vista da cui lo guardiamo, data la condizione in cui versa. Il 30 aprile, del 93 era l'apice, il momento culminante della parabola dissolutiva della prima repubblica, come sapete, con le monetine lanciate a Bettino Craxi, secondo quello che veniva presentato come un momento di rinnovamento e di pulizia e che invece, sull'onda di quello che aveva già teorizzato il mio maestro Costanzo Preve, io ho definito un colpo di stato giudiziario ed extraparlamentare, formula che mi è costata anche una querela, dalla quale, avendo noi ricevuto una querela direttamente dagli interessati e grazie al mio amico, l'avvocato Mario Gallo, abbiamo anche vinto la querela, quindi si può dire che Mani Pulite fu un colpo di stato, piccola notazione, però è un'interpretazione naturalmente, perché evidentemente se c'è una repubblica democratica, secondo la forma parlamentare, viene risolta senza passare dalle votazioni, evidentemente è un metodo che esula dal funzionamento e quindi questo era, era un momento di ammodernamento dell'ordine neoliberale che passava appunto da Maastricht, da Mani Pulite e anche dal Panfilo Britannia, altro evento del 92. Ecco, quindi questo è nell'essenziale quello che abbiamo visto prendere forma in questi anni e credo che occorra ragionarci criticamente, ecco, il nostro obiettivo è proprio quello di provare a pensare, a me non interessa imporre niente a nessuno, la verità filosofica si ottiene dialogando, quindi non proviene dall'alto, ex cattedra, si dialoga e si ragiona sulle cose, questo proviamo a fare.